eccoci qui metto il DVD così vediamo la qualità non è ottima per quello che è che si capisca un po il but he hopes he'll understand what would his main activity poi la reazione è sempre più o meno la stessa i giornalisti qui in Italia appena mirano the reaction is always the same journalists don't like him and they dislike him and sometimes cioè non è proprio è diventato un'ossessione sono diventato un'ossessione e non nascondo che però questo a me diverte anche un po it's an obsession of Italian journalists but he likes to do this so how many times have you done this have you appeared behind people on camera quante volte hai fatto questo tipo di sono venti mila fino adesso sono venti mila sabotaggi e ne erano ovviamente fiero in trentici anni di meritinate televisive ho cominciato nel novantasette amo dire inquinare la televisione he likes to say he likes to say he likes to say he likes to say you know to inquinate pollution like the second song he's mind he's mind ecco questo è invece il momento in cui c'è stato l'incontro l'unico incontro che ho avuto con Silvio Berlusconi ecco come vedete qui sta arrivando lui ci sarebbe fermato per salutarmi Berlusconi stopped to say ciao Polini e anche lui gli ho detto Presidente un preservativo per la vita he said a condom for life Mr. President perché la mia battaglia è quella dell'uso del preservativo because his battle is to promote the use of condoms why do you feel strongly about promoting the use of condoms? perché tu ti senti portato a promuovere? tutto nasce da un mio amico che è morto che è di essere nel 1997 he had a friend who died in 1997 because of AIDS e nel tempo puoi dirgli dall'uso del preservativo come messaggio per i giovani per un senso sicuro and he started giving this message safe sex with condoms to young people si è passati all'uso del preservativo inteso come una prevenzione per quello che riguarda l'attenzione ai media e soprattutto alla televisione and then he started to give advice sort of advice to young people about watching television be careful watching television quali sono i pericoli della televisione? ma io ritengo soprattutto l'esasperazione della cronaca nera the exasperation of violent news you know, violent news and dark news especially... depressing news? yeah, yeah, especially news television but soprattutto la telegiornale visto che parliamo di una tv inglese e di pubblico inglese e di spettatori inglesi right now we are on British television cito per tutti il caso di Amanda che in Italia è molto noto in Perugia he's talking about Perugia Amanda Knox Marodito there was a murder in Italy and an American girl a young girl was supposed to kill a British girl Amanda Knox and Marodito Kirko il mio modo ossessivo di interrompere le rete televisive his obsession in interrupting tv news e proprio quello di denunciare questa speculazione che io trovo squallida e morbosa it's against this speculation that he finds in a way more... if I'm not... that's right make up a word more abuse more abusive more abusive oh yeah this is the word I made up how do journalists react to when they see... I mean we see here a couple of them being very angry but how do journalists generally react to when he appears behind you? come regiscono generalmente i giornalisti quando tu fai questo inquinamento e reagiscono in maniera anche molto violent they can be violent 60 giorni e più di prognosi delle botte che ho preso in fristiana during these years he spent 60 days totally in hospital because of... because he was beaten by... yes e quindi poi nascono anche denunce e contro denunce che fanno loro e io faccio evidentemente agli operatori there are trials, they sue it each other... con tutto ciò però ecco mi fa piacere farmi vedere in questo istante un'immagine di una nota subrette italiana this is... in your point of view I have a famous... heavy Italian girl che addirittura... io avevo i capelli lunghi all'epoca that girl? si è travestita da Paolini with... you know... making a sort of... impression... impersonation impersonation of Paolini apparendo ad un noto direttore di telegiornale Giuliettana... eccolo qua behind this journalist this is... he used to be a TV news director in uno spettacolo paterissima che insomma è più seguiti in Italia in a very popular TV show e gli hanno fatto lo scherzo visto che io spesso l'ho fatto cambiare questo giornalista questo è una strada di ragione grazie ok? ok? Allora, vi faccio vedere il nastro. Ora, questa è stata una reazione di un giornalista italiano molto noto e drammatica. Il giornalista è una reazione drammatica. Ok, quindi stai spiegando dietro? Esatto. Appena gli ho dato il presentativo mi ha dato un cancione che ancora me lo ricordo. Una fotografia con il Papa? Sì, esatto. A lui gli ho regalato un preservativo. E gli sono permesso di chiedervi, lei in santità ha mai avuto un'erezione? E lui rispose, e sorride anche nella foto, anche io sono stato giovane. Penso che questo sanno... I'm going to stick that down again, you go on the tooth. I'm going to stick that down again, you go on the tooth. Oddio. Ok. Per quanto riguarda la larghezza abbiamo... Is the right size? Yes, it's good. I've got my tooth. Potrebbe. Potrebbe. A me sembra che è un po' presunto. Perché dall'occhio, gli puoi dire, io intuisco dall'occhio. His... What? Misura. Oh, he knows the size just looking in your eyes. Really? He can tell? Yes, he can tell. All'occhio di elchino. Smart eye. Smart eye? Yes. Ma è l'occhio della mamma o del papà? Smart eye. Did you get it from your dad or your mom? Oh, I think this one's my dad, this one's definitely my mom. Ah, uno, uno. Uno, uno? Sì. E qual'è quello del papà? È quello di sinistra del papà. Quello sicuro, eh? Are you sure? Yes. Ok. Per quanto riguarda la fede, ancora c'è un mistero. But he can't see an inepturing? No. No. Well, there's a boring explanation to that, but it's... Oh, c'è un'ospirazione che però è noiosa insomma, comunque. Però una domanda all'ultimo prima di dare un vecino. No. Una volta ha provato con un uomo. Did you ever sleep with a man? Um, did you ever sleep with a man? No. 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 S. No. No. Un po' fatica perché non è il mio tipo. Però... Well, I'm sorry to be a disappointment. Però dico già che ci siamo. Ma since you came to Italy, I just wanted to be kind... I don't want a sympathy fucker, that's what we're talking about. Non vuoi, non vuoi. Ah, non vuoi, non vuoi. I'm getting that out of it. A me non bacio, un kiss? At least he'd like to kiss you. Ok, yeah, yeah. Evo là. We'll do bad, eat these out. Hang on everybody. Grazie a tutti, grazie a tutti.